Avete difficoltà ad arrivare in divisione 1 o non ci siete mai arrivati anche se avete una squadra di ottimo livello? Per migliorare non servono gli epici, non servono i big time, servono le conoscenze, servono le abilità. Da oggi potete contattarmi per ricevere delle lezioni private di football personalizzate, dove vi insegnerò sia le nozioni base che quelle più avanzate, dove vi farò apprendere tutti i comandi nascosti di questo gioco, le funzioni sconosciute alla maggior parte dei player di medio livello e le skills che mi vedete fare nel mio road to glory. Tutto ciò vi permetterà di arrivare ad un buon livello e vi eviterà tante arrabbiature dovute alle delusioni che può dare questo gioco. Trovate tutti i social per contattarmi in descrizione, vi aspetto numerosi ragazzi. Bella ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Simo Play, oggi siamo di nuovo insieme per parlare di Football 2024. In questo nuovo video vi riporterò alcune indiscrezioni sulla Master League, ma soprattutto sul probabile trasferimento dei giocatori nel nuovo gioco. Ragazzi, questa parte è fondamentale, quindi non andate avanti senza aver prima lasciato l'iscrizione con la campanella attivata, ma soprattutto senza aver messo un bel like a questo contenuto. Lo sapete, più like ci saranno, più video di questo tipo pubblicherò, quindi se apprezzate l'argomento, spolliciate. Come sempre vi consiglio di seguirmi anche su TikTok per essere sicuri di non perdere tutti i contenuti aggiuntivi che pubblico su questo videogioco e non solo, quindi mi raccomando fatelo, il link lo trovate in descrizione. E sempre in descrizione trovate anche il link del canale YouTube del buon Alebenni86. Pubblica contenuti molto simili ai miei, quindi se non sapete chi guardare a parte me, date un occhio a lui. Ok ragazzi, non perdiamo ulteriore tempo, profilo Twitter di Renan Galvani, infatti le indiscrezioni di quest'oggi provengono proprio dall'influencer brasiliano. Partiamo dall'indiscrezione e ripeto, si tratta di indiscrezione ragazzi, non dite in giro che è roba ufficiale perché assolutamente non lo è, mi raccomando, su questo punto devo essere super chiaro, altrimenti come sempre qualcuno di voi non capisce. E come dicevo partiamo dall'indiscrezione sul trasferimento dei giocatori, quindi giocatori trasferiti, giocatori non trasferiti. Galvani ci dice, questo giovedì Konami dovrebbe aggiornare il proprio sito web con le informazioni di carte giocatori qualificate per il trasferimento e allenatori qualificato per il trasferimento, nell'aggiornamento 3.0.0, quindi sì, effettivamente qualche giocatore probabilmente che ha perso la licenza non verrà trasferito ma vi saranno restituite l'esatto numero di monete che avete utilizzato per prenderle molto probabilmente, o se si tratta di giocatori base, IGP. Quindi non vi preoccupate. In ogni caso non si dovrebbe trattare delle ultime carte uscite big time, carte epiche, eccetera, eccetera. E comunque la maggior parte della squadra quasi sicuramente, quasi sicuramente verrà trasferita. Quindi non preoccupatevi, non allarmatevi. Questa è la prima indiscrezione di quest'oggi. Staremo a vedere se effettivamente a breve Konami aggiornerà il proprio sito web questo giovedì, quindi addirittura domani. Altre indiscrezioni. Cominciamo a parlare di Master League. Si presume che i giochi gratuiti abbiano zero priorità nelle modalità offline. Konami realizzerà la Master League, l'unica modalità offline che avrà i football, secondo lui, solo su pressione della community. È vero. Stanno facendo uscire la Master League perché gli abbiamo rotto le scatole. Non aspettarti altro. Niente che distolga l'attenzione della modalità online. Effettivamente ha ragione. Prossimo tweet. Allora, gli chiedono quando uscirà una Master League completa di modalità editor? E lui risponde probabilmente, cioè con fortuna intendo, se la fortuna ci assiste, alla fine di novembre. Prima diceva, e anche io sto continuando a dire secondo me, più settembre-ottobre, però addirittura Galvani adesso ritarda ulteriormente, dice alla fine di novembre. Ma alla fine settembre, ottobre, novembre siamo sempre in questo, diciamo, tris di mesi, quindi cambia davvero poco. Accendi una candela e sii forte nelle tue preghiere. Io sono più positivo a questo punto. Secondo me questi sono i mesi giusti per l'uscita della Master League. Secondo me è così, ragazzi. Prossimo tweet. Aspettarsi che l'e-football sia PES e entrare in una bella delusione. Konami non vuole che l'e-football sia PES e lo dico in tutti i sensi. Dalle modalità alle meccaniche alla grafica, eccetera, eccetera. Ricorda che l'idea del gioco è accessibile a tutti. Crossplay su tutte le piattaforme. E effettivamente tiene ragione. C'ha ragione. Poi, qua si parla addirittura di costo della Master League. Cioè, Galvani ipotizza un costo. Secondo lui la Master League ovviamente verrà pagata e questo è praticamente ufficiale. Però non conosciamo il valore. Ma dice che possiamo preparare almeno 200 reais. Sono andato a vedere quanti sono 200 reali in euro. Reali si richiama reali. Insomma, chiamato come cavolo volete la moneta brasiliana. E si tratta di 37 euro. Quindi circa 40 euro. Di conseguenza, il nostro buon Galvanino ci sta dicendo che per la Master, secondo lui, dobbiamo preparare almeno un bel quarantello. Una bella 40 euro. Staremo a vedere chiaramente se è vero. Oppure addirittura se dovremo sborsare di più. Secondo me no, secondo me è giusto. Ve l'ho sempre detto anch'io. 30-40 euro. E anche Galvani, a quanto pare, ha questo pensiero. I fan conclude con quest'ultimo tweet che chiaramente chiuderà il video. I fan hanno così bisogno di una Master League che la stragrande maggioranza pagherà sicuramente a prescindere. Non penso che la Master League faccia schifo, sarà male. Ma ci dice, tieni presente, tenete presente, che sarà comunque una continuazione di quello che era in PES 2020-2021. E' chiaro, perché la Master League è quella, ma io mi aspetto tantissime novità, perché altrimenti farà un flop enorme. Comunque la gente la comprerà, perché sta in crisi d'astinenza la Master League. Diciamoci la verità, questo è vero. Anche voi, molti di voi stanno impazzendo che non c'è la Master. E quindi tutti la compreremo. Però io spero che sia un prodotto veramente nuovo, un prodotto veramente aggiornato, perché altrimenti il flop ci sarà e sarà... non sarà il primo e sarà grosso. Bene ragazzi, io direi che per questo video può bastare così. Chiaramente fatemi sapere nei commenti che ne pensate di tutte le indiscrezioni che vi ho riportato in questo contenuto. Voglio sottolineare di nuovo che non si tratta assolutamente di info ufficiali, quindi mi raccomando, prendete tutto con le pinze. Io vi ringrazio per essere stati mia compagnia, noi ci vediamo al prossimo video. Un abbraccio e un saluto, della vostra Timo Play. Bella ragazza!